Allora, due indiscrezioni sulla campagna acquisti dell'FBC Saronno. Cosa puntate, cosa cercate? Diciamo che siamo in ballo con dei giocatori importanti, di categoria, perché bisogna preparare una squadra giusta al mister Mazza per fare un campionato degno nel nome del Saronno. Quindi in questi pochi minuti, nelle prossime ore, sicuramente chiuderemo con alcuni giocatori importanti dell'eccellenza, delle altre squadre che sono state avversarie del Saronno l'anno scorso. L'obiettivo della stagione quale sarà? Diciamo che sarà una stagione tranquilla, vogliamo fare una stagione tranquilla per prepararci per il prossimo anno, una stagione esplosiva.